Salve a tutti ragazzi e benvenuti da CIVA in questo nuovo video di shawblade andiamo avanti allora cominciamo a equipaggiarci un pochettino allora avevamo le avevamo questo abbiamo fatto 100 questo è da finire e questa qui è la nuova ok poi la proviamo adesso finiamo questa perché comunque è da finire e vediamo un po questa zona nuova cosa si come si presenta cosa dovremmo fare porca vacca ricominciamo già con gli animali però c'è della roba dai adesso lo prendiamo ok bene ho sbagliato scusate colpa mia adesso ho preso un po di tempo da finitempo di riprendere un po è questa ha fatto la carica instant eccoci qua nemici sconfitti piano piano la portiamo al massimo poi vediamo cosa ci regala di abilità intanto prendiamo qua facciamle abbiamo tanti quella polvere d'assi che possiamo vendere ma chi la compra dico io va bene andiamo giù sembra una lingua lunga questa sembra sbavata da panico ma qui qualcosa di papirone ah qui per salire quindi se noi scendiamo c'è la mappa beh io ci andrei di cuore ma sta sbavata da panico cos'è ma porca vacca quanta roba c'è da fare qui ce n'è parecchia andiamo cosa possiamo fare come morire malo beh qui c'è già il colore e già non mi dispiace eh abbiamo già trovato un colore un collezionabile ho trovato un nuovo colore anti antracite antriciate vediamo un po' quella di cioè qua abbiamo trovato una mappa un santuariolo un colorele va bene mi sono bloccato adesso le faccio così esplorò così a naso poi guardo la guida c'è boia ho fatto proprio una cacca ah non è non c'è pure da rompere lo sabe signoro lei mi dice I always love these paintings the people in it are the accrian's right and that is the spire they're bringing the spirits that weren't able to get into the flux alone to the spire there they will be released it was their most holy ritual oh but I forgot you don't believe in such things or do you it is hard to doubt it after spirits have entered this stone and since I got that ability I I can feel the flux I feel it running through mi every time I use it eh e quindi insomma ci crederà alla fine insomma no allora vediamo un po' così eh collezionale che cazzo ho preso mi hai detto già boia siamo già a 50 come può essere che siamo a 50 che manca un sacco di roba manca il fungo manca un santuario manca una tavoletta manca una runa manca tutto quanto manca porca vacca mi dici che ho già sprecato il 50% della roba che trovate su due cose vabbè è un po' strano sta percentuale andiamo un po' avanti andiamo un po' qua certo che finora la mappa non è che ci ho fatto tanto nel senso non penso ci fossero tanti segreti qua però comunque dopo ci guardo eh si è entrato in cancelli gemelli questo è un altro ancora ah siamo da un'altra parte quindi può darsi di sì che ci fosse qualcosa vabbè guardo la guida vi dico non so se sono segreti però ci ho pensato e ho detto cazzo io sono andato solo da una parte non ho guardato la guida però comunque sia le strade erano due io ne ho preso una quindi insomma ci sono incastrato ci sono incastrato e niente bisogna far così queste non mi sa fare i gradini signora signorina di qui ok vediamo un po' di andare di qua vedere se c'è qualcosa di interessante e qui i gradini di safari di là non li sapeva fare ci vede che ci aveva male il piede ok di qua si può andare ma sembra di no sembra di no non sembra che ci sia neanche un cazzo quindi dopo ci guarda comunque sia vi dirò nel caso adesso andiamo giù qua che c'è un animalo e basta c'è solo l'animalo guarda 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 sì salve signore animalo sono qui per lei opla eh credeva eh anch'io ci credevo ripeti opla oh ci è fatto malo oh 100% beh abbiamo fatto bene venire alla fine no allora vediamo un po' il abilità del 100% del cazzo mazza qui ma cazzo è questa qui aggiungi alla terra speciala nelle vendizioni in occhio quello fa un cazzo di male è esperto al ciment mi fa tanto piacere 50% dice vabbè sono spesso 50 più già fatto la metà della roba può darsi eh e ma cinque punti quindi se faccio questo e faccio questo vado un po' più avanti ovviamente perché mi manca un'arma porca vacca non è quella che quello strontro ne aveva lasciato la vabbè non importa allora adesso io dico visto che la lancia l'ho fatta la sostituisco un attimo con questa e noi andiamo avanti con questa cioè iniziamo con questa più che altro così almeno siamo a posto va bene guardo la guida e vi dico subito bene ci sarà da divertirsi parecchio quindi dobbiamo tornare esattamente dove eravamo prima posto nuovo dove c'è un santuario dopo scendiamo e ci saranno dei tipi che faranno cucù i tipi che mi spaccano tu sarà divertente insomma quindi andiamo giù di qua e andiamo verso il santuario l'ho il signore è ridotto un po' l'osso capisco la dieta però insomma provi a cambiarla mangi qualcosina in più eh e mi è ridotto all'osso porca vacca eccoci qua andiamo giù qui andiamo giù qua mi fate una rotolata ecco qua se trovassi una cura non è che mi farebbe schifo sapete certo che non so a che punto di gioco siamo però solo tre cure quattro cioè mi sembra una forza mi ha fatto tenuto eccoci qua eccoci qua vediamo ed ecco sale che vi dicevo adesso facciamo un bel sale vediamo un po c'è nessuno vero si è andarsi qua ci offenderebbe qualcuno oh porca vacca e chi cazzo lo spinge ma non ce la farò mai vero perché questo gioco è strano vero ok ma signor ok è andata così ma signori dove sta andando le ok ripeto questo gioco è strano comunque sia ok benissimo beh a me fa solo più piacere cosa mi hai dato un cazzo di niente beh sono contento allora vediamo un po che si apre una porta io ne approfitterei subito vediamo c'è gente e sta già arrivando quello la fate proprio la porta che già arrivano ero per i marroni un altro in attico è bellissimo scrivi 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 il caldo scrivi facciamo che vuole ha fatto il signoro il signore non si fa così ma l'ha fatto come nessuno forse è meglio che mi cura forse è meglio che mi ringrazio orari o porca vacca esce per tecura mi piace come scrivo scrivo ultimamente scrivo proprio bene esploriamo un pochino qua magari c'è qualcosa di interessante che possiamo prendere ma magari dopo adesso magari qui più bello si magari anche no non è così bello come sembrava saliamo qui le scale magari c'è qualcuno di interessante mi ha ovviamente visto ecco che cazzo e vabbè dammi tempo di curarmi cazzo e vabbè dammi tempo di curarmi e vabbè dammi tempo di curarmi e vabbè no non si fa così maleducato eccoci qua perfetto è lenta è però comunque sicuramente più veloce di quella casa di lancia eccolo qua a una nuova armatura si mangia già troppo stava fatto per due cazzo dico ma quanto cazzo metto ho bisogno della nuova armatura si cazzo se c'è bisogno è cazzo però dove va signore non si fa così sto parlando vabbè si va più insiste ma doveva il lock quanto odio l'occhi sto gioco ma doveva preso signoro dai ma che cazzo licenza poetica proprio eh eh ciao e niente ce la faremo ok 25 va bene no signore non mi scendo così volevo luttare io non volevo strontare sa che già allora prendiamo sta roba qua ah lo so che devo andare qui ma ci vado dopo signora adesso mi faccio un giretto questo è uno shot cut e questo è uno stront cut vabbè è uno per uno per nessun male senso qui sono già troppi qui c'è una forza mi fa usare l'armatura me la fa creare si dai così magari forse let's go vediamo un po' eh perché non sono molto prepenso da strontare allora questo qui è massima energia e uno e mezzo questo fa cacare e questa è beh forse un po' meno energia però sicuramente un pochino più protetto sono mamma mia ma quante strade ci sono mi sono già perso l'incoglionito in una volta sola eh c'è troppa roba qui c'è una cosa da leggere perfetto degna sopportuna beh cominciamo meglio ma c'è ma poi signoro eh non si fa così ma io sto parlando ho preso lo stesso signoro signoro che fa balletto di qua qua ok vai 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 nuovo livello era morto oh l'ho detto molto virile vero c'è la forgia qui vero siamo proprio due passi e ovviamente non me la fa cosa si serve c'ho tutto e sembra anche bella potente possente vai crea dopo lo usiamo appena aumentiamo con questa eh e adesso andiamo qua io cioè sono qua e lui è lì perché se faccio lo che mi punti quello cioè io vorrei solo capire questo poi dopo questo è buono e niente e niente e niente e porca e porca vacca vabbè questa armatura sembra che si protegga un pelo di più si dalle caccate no però non le protegge si si rilassati so so ah questo era rosso beh ho fatto un liscio da panico ok ok e niente troppo avevo già iniziato e niente che cazzo bene così me ne ho dato due ottimo ah piano piano dai c'è c'è la faccia già di più con le armi un pochino più veloci se no sono cazzo di casino allora sto cercando di fare tutto eh perfetto eh ce ne servivano allora se la forgia no l'abbiamo già fatta la forgia allora calma qui siamo andati facciamo tutto casino sto cercando di fare il perimetro però vediamo cosa c'è di bello qui eh proprio bello bello no però qualcosa c'è ah non mi piace eh vabbè porca vacca vai ok ok perfetto va bene ok eh un'altra cosa dai quando si capisce un pochino già questi sono abbastanza legibili ma ci sono alcuni che non si capisce un cazzo ok e questa è andata esplorazione però adesso mi è piaciuta la guida e adesso vado verso l'inizio guardo la guida così almeno faccio tutto dai dove all'inizio già che cazzo mi sono riuscito a perdermi in 5 metri quadri è incredibile dovrebbe essere qui l'inizio vediamo sì siamo venuti da qua perfetto ok guardo la guida e vi dico eh ok scusate un attimo ecco ecco un attimo ecco boji andiamo in circoli ah no che salvo di faccia ho detto ci provo a debesimarmi opla eh certo dove va signoro eh certo certo che vedere quando schiocca la freccia è un bel cazzo di casino eh questo è difficile da perviare eh per me lo è non è che sia difficile in generale ok questa è andata adesso qui eravamo venuti sono abbastanza sicuro si è rifatto è un atto simile ok ma dove cazzo è andato signore e adesso ma che bene ok 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 signore ok tac uh aumento di livello e adesso andiamo a trovare questo stronzo signor dove cazzo sta andando si è rincoglionatico eccolo qua ecco qua perfetto da che ci siamo quasi al cento per cento e questa è andata poi andiamo di qua vediamo cosa decidi eh ci qua è un'altra chiacchierata non sì ma cazzo cazzo che cazzo ti o So, that orphanage, it didn't sound like you enjoyed it. Nobody likes their orphanage. Neither the kids nor the matrons that foster them. Most kids leave the orphanage as soon as they can beg or steal good enough to earn their own food. And so did I. I... I just didn't belong there. And the matrons made sure to let me know every day. Well, except one. What do you mean, except one? Enough for now. Maybe I will tell you some other time. Very funny, Farhan. Meno malo, perché siamo qui stiamo a tre ore. Ok. Oh, salve signore. Lei è un po' morto, sa. Ok. Qui, qui, qui. Vi ha fatto giro. A quanto sembra. Eh, a sto punto penso che sia questo il che... che dobbiamo fare. Adesso lo ci dirà un'altra bella storia, non vedo l'ora di sentirla, guardate. Eccola qua. Wait. The Ellicene weren't from here? I never said they were. They were nomads. Always traveling. They didn't expect to settle. But when they found this valley with all its precious metals, as alchemists they couldn't pass up the chance. And even though it was already inhabited by the Akraeans, the natives of this valley, they got along well for many years. The Ellicene even saw themselves as their protectors. This. It looks like they were more than just protectors. It looks like they were part of them. What made them such assholes? I already told you. They slowly grew corrupt after they tried becoming one with the metals. While the Ellicene grew apart, the Akraeans became lower beings in their eyes. And the Akraeans believed them to be akin to gods. For they became a part of the land they prayed to. That corruption is what could await you. Or even me. But while you have the chance to master the other elements, I will always just be bound to one. Every day. I have to do my best and grow. That is the responsibility I carry for receiving my powers. Eh... Vabbè. Eh, ragazzi, diciamo che ti possiamo... Always good to see one of them. Quattro punti di conoscenza. Ma ancora? Diciamo che ci possiamo anche fermare qui. Per questo video è tutto. Io vi invito come al solito a lasciare un like e commento. Mi piace a serie. E voi potete sapere cosa ne pensate. Per il momento vi vedo sotto la cima. Ciao, ciao.